Speriamo vi sia piaciuto, Lucia Sofferino, io sono Giulietta Nacalucci, Diego Mercuri, Eugenio, Jennifer, noi siamo felici di aver suonato per voi questa sera, grazie Dario, grazie a tutta la locale per averci ospitato, questo è l'ultimo pezzo, si chiama The Devil and the Osman, è stata la colonna sonora di King Arthur, ma era veramente tamarra, non so se chi usa questo termine, era veramente tamarra, così abbiamo riscritto una versione noi, per renderla consona, ed è l'ultimo brano, pronti? Speriamo! Come and be me, for a feeling, for a deep life she Maybe it's me, what I am she, who don't deny, what I am she Grazie. 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 Grazie a tutti, buona serata. Grazie per essere stati qui con noi stasera.